L'adri di carburante in azione dopo il blocco degli autotrasportatori ed il tutto esaurito nelle stazioni di servizio della provincia di Brindisi. Due gli arresti a San Vito dei Normanni per il furto di gasolio dai mezzi di una cava, cinque le denunce a Brindisi per il tentato furto di benzina da sette auto parcheggiate nei pressi del parcheggio libero dell'aeroporto. Avevano rubato 80 litri di gasolio in tre fusti dai macchinari della cava della FIMAB di Contrada Formiga e alla vista dei carabinieri non si erano fermati all'alt, ma dopo un breve inseguimento i militari della compagnia di San Vito dei Normanni hanno fermato ed arrestato per furto aggravato Salvatore Urbano, 23 anni di Carovigno, già noto alle forze dell'ordine e Vito Bafaro, 22 anni di San Vito dei Normanni. Entrambi saranno processati con rito direttissimo. I carabinieri della stazione di Brindisi Casale invece nell'ambito dei servizi di controllo del territorio hanno denunciato a piede libero un 25enne, un 21enne, un 18enne e due minori per tentato furto aggravato. Quando sono stati sorpresi stavano tentando di prelevare carburante dai serbatoi di sette auto in sosta nel parcheggio libero dell'aeroporto civile. L'attrezzatura per l'aspirazione del combustibile è stata sequestrata così come un coltello del genere proibito trovato nella disponibilità del 25enne, denunciato anche per possesso ingiustificato di coltello del genere proibito.